ciao a tutti benvenuti in nuovo video di mito e misteri scp oggi parleremo della scp 3874 chiamato anche seicento a 1 classe l'oggetto keter foro di scp 3874 nel 2005 preceduti speciali contenimento a casa dell'accordo scp g o c nel 1970 il coinvolgimento diretto della fondazione del contenimento di scp 3874 è impossibile la fondazione deve invece monitorare attività del gdl 616 pentagramma relazione all'anomalia e ai tentativi di sabotaggio di eventuali tentativi noti di assassini scp 3874 descrizione scp 3874 è l'ex primo ministro e presidente di cuba fidel alejandro castro rux sebbene la proprietà non ma del soggetto rimangono in gran parte sconosciute si vede attualmente che scp 1874 possieda una o più delle seguenti proprietà anomale capaci di modificare la probabilità chiaroveggenza proprietà di indistruttibilità rigenerazione rapida o ogni scienza patafisica scp 1874 non ha dimostrato in pubblico nessuna delle suddette proprietà anomale né mostra segni tipici di un metà umano da classe b tuttavia la quantità di tentativi di assassini a questo prevvissuto scp 3874 è stata ritenuta molto probabilmente anomala secondo la documentazione del programma pentagramma attraverla da fornire dal dissettore matthews cha l'organizzazione ha affettuato oltre 600 tentativi per assassinare scp 3874 dal 1963 i metodi dei tentativi di assassino includono mezzi sia anormali che ordinari foto dei spiriti e del 1874 nel 1959 i metodi di tentativi includono un sicuro esplosivo gelato per l'anato assunzione di ex membri dello spirito di chicago e di persone di interesse del uiu per la partecipazione all'invasione della baglia dei porci discorso diplomatico dotato di rischio cognitivo voodoo parafarmaci radioattivi e orragio di disintegrazione orbitale e questa è tutta la storia scp 3874 se il video vi è piaciuto come sempre mi piace per questo video è tutto e non ci vediamo alla prossima ciao